Le medaglie dei campionati del mondo di pasticceria, gelateria, cioccolateria e dei campionati del mondo di cake design della FII PGC sono realizzate dalla ditta OMEA di Milano, che da 130 anni opera nel settore. Per realizzare le medaglie si inizia con un disegno, in questo caso il logo della Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria, Cioccolateria, che viene riprodotto con il pantografo tridimensionale dallo scultore. Si utilizza un metallo tondo con diametro di 8 cm, lo si posiziona sotto una pressa da 1000 tonnellate. La pressa comprime il metallo, che acquista l'immagine sia del dritto che del rovescio delle medaglie. Naturalmente il metallo in eccesso viene tolto utilizzando un tornio per rendere il bordo della medaglia perfetto. Per dare lucentezza ai rilievi della medaglia viene passata sotto una pulitrice, creando dei contrasti tra lucidi e opachi. Successivamente vengono immerse in un bagno di oro caldo e galvanizzate, per permettere al metallo prezioso di attaccarsi alle medaglie. Si procede poi all'asciugatura delle stesse. Infine, con una punta di diamante, vengono incise le scritte e per permettere ai vincitori di poterle portare al collo, viene fissato il nastro personalizzato della federazione. Grazie per la visione!